Solo pochi giorni fa il Collegio dei Sindaci ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione del Consorzio di Deporazione Liquami con sede a Mascali, si tratta dell'ingegnere Gianluca Longo. Come è noto la struttura consortile che è consorzio ai comuni di Giarra, Mascali, Riposto, Fiume Freddo di Sicilia e Sant'Alfio è stata negli ultimi anni sotto l'occhio del ciclone dal punto di vista amministrativo e giudiziario. Il neopresidente Longo sta cercando di avere contezza dei vari problemi anche attraverso un incontro interlocutorio con i vecchi componenti del CDA che è già in programma per la prossima settimana. Sono onorato della fiducia che è stata riposta appunto nella mia persona, non ho ancora preso atto della situazione dello stato di fatto del Consorzio, stiamo cercando di organizzare un incontro col precedente consiglio di amministrazione in maniera tale da agevolare il trasferimento di informazioni e il passaggio di competenze. Longo rassicura sulla prosecuzione dell'iter procedurale che nei prossimi anni porterà alla realizzazione del terzo modulo, della condotta sottomarina e delle reti fognarie mancanti, grazie al progetto di finanziamento di 23 milioni e mezzo di euro del Comitato interministeriale per la programmazione economica affidato al commissario unico nazionale. Di fatto per la mia professione conosco dal punto di vista tecnico sia l'impianto di depurazione sia l'iter procedurale di questo finanziamento che porterà appunto al completamento della rete fognaria su tutte e cinque comuni, al completamento con la terza linea dell'impianto di depurazione e la realizzazione della condotta sottomarina. E quindi diciamo che l'idea, la speranza è quella di continuare a lavorare e a migliorare il servizio sulla strada di quello che è già stato fatto dal precedente Consiglio di amministrazione, cercando di lavorare in sinergia con tutti i sindaci appunto perché ci troviamo ad affrontare questa nuova sfida di questo completamento che porterà alla risoluzione di tutte le problematiche presenti sul territorio. Il bando è stato gestito dal commissario unico per la depurazione, anzi posso dirvi che giorno 21 scadranno i termini per la presentazione delle offerte al bando per la progettazione e la direzione dei lavori appunto di questo intervento che riguarda appunto la copertura di tutta la rete fognaria su tutti e cinque comuni, il completamento della rete fognaria, il terzo modulo del depuratore che porterà appunto a coprire tutte le esigenze del territorio e della condotta sottomarina. Quindi entro il giorno 21 si dovranno presentare le offerte, dopodiché scatterà tutta la procedura per l'affidamento del servizio in questa fase di progettazione e direzione dei lavori. Una volta effettuato il servizio di progettazione, quindi una volta ottenuta la progettazione esecutiva e approvato il progetto, si potrà procedere con l'appalto dei lavori per la realizzazione finalmente di questo completamento dell'impianto e del servizio fognario che poi peraltro è finalizzato oltre a risolvere le problematiche locali, anche a risolvere delle procedure di infrazione della comunità europea. Una volta che prenderò atto dello stato di fatto del consorzio, cominceremo con l'attività da svolgere appunto per cercare di risolvere tutte queste problematiche e di migliorare continuamente il servizio.